a buongiorno a tutti qui è sebastiano made in ciseli come avevo già detto pubblicherò un video sul mio blog setup microfono cover della hero 5 e adattatore sono qui proprio per mostrarvelo adesso andiamo a cambiare prospettiva a fra poco abbiamo qui la nostra hero 5 il nostro adattatore per microfono la nostra diciamo cover per le hero 5 così è il nostro microfono rode con la sua spugnetta anti vento il microfono è questo qui il video video micro procediamo all'assemblaggio andiamo a posizionare la nostra hero 5 stringiamo non forte perché non c'è bisogno andiamo a ad aprire il nostro sportellino e inserire il nostro cavetto verrà automaticamente riconosciuto dopo di che prendiamo il nostro microfono andiamo ad inserire nell'hot show andiamo ad avvitare dopo di che prendiamo il nostro attacco io lo lascio avanti così il microfono tende a stare alzato ed ecco qui il nostro vlog set adesso ci spostiamo su questa camera allora come già detto abbiamo usato adattatore gopro la cover shoot io ho preso questa però ce ne sono altre marche di altri prezzi e il microfono video micro della rode ok così adesso si vede meglio facciamo vedere anche qui adattatore cover e il microfono e poi lo so in copertina c'è anche questo non è gopro ma è della non so se si riesce a leggere della easy hack l'ho preso l'ho già provato due tre volte ed è un ottimo power bank viene ricaricato due tre volte la gopro e niente vi lascio i link in descrizione di tutto quello che uso della gopro hero 5 della hero 4 session power bank microfono adattatore e la cover gopro scusate sempre per l'impacciamento ma sto cercando di fare un video diverso da quelli che mi ero proposto con due videocamere i due telefoni che mi fanno comunque da schermo per vedere le inquadrature e niente qui è tutto da Sebastiano Made in Sicily al prossimo appuntamento e non dimenticatevi di lasciare like lasciare i commenti iscrivervi al canale soprattutto attivare la campanella per avere tutte le info qui appariranno i video precedenti che ho pubblicato alla prossima ciao gopro spegni è anche qui ciao